Come ogni anno la festa della polizia che celebra il 170esimo anniversario dalla sua fondazione è un'occasione per premiare gli uomini che si sono distinti nel corso degli interventi effettuati nell'anno appena trascorso, ma anche un'opportunità per dare uno sguardo all'andamento della criminalità nella provincia di Salerno, esaminando i dati relativi al numero e al tipo di reato. Nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 si sono registrati 32.525 reati che sono in aumento leggero rispetto all'anno precedente, che però va analizzato alla luce del lungo periodo di lockdown dovuto al Covid-19. Arrestare è stabile però il numero relativo alle rapine che si attesta di poco al di sotto dei 300 casi, ma crescono le truffe informatiche 4.797 quelle registrate nel 2021. Numerosi anche i furti, più di 10.000 soprattutto nelle abitazioni. La polizia è stata impegnata fortemente anche nei controlli di persone e veicoli, 10.000 quelle sottoposte ad obbligo, monitorate dagli agenti della questura di Salerno, più di 21.000 invece i veicoli controllati. Ammonta invece a 68 chili il totale di cocaina sequestrata dalle forze di polizia nel 2021 in un totale di 144 sequestre di sostanze stupefacenti. Tra gli interventi effettuati dalla polizia spiccano anche i controlli Covid, più di 48.000 quelli che hanno riguardato le persone, 17.414 quelli effettuati negli esercizi pubblici in attività commerciali. Sono invece state 739 le persone sanzionate per aver violato le norme Covid. Proprio per l'impegno profuso dalla Polizia di Stato durante la pandemia, il Presidente della Repubblica Italiana ha concesso la medaglia d'oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato, un eccezionale banco di prova che ha evidenziato lo spirito di servizio che caratterizza l'attività di ciascun poliziotto. I festeggiamenti prevedono una cerimonia che avrà luogo domani, 12 aprile alle 10.30, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovili, alla presenza del Prefetto e delle autorità militari, civili e religiose. Dopo i messaggi iniziali prenderà la parola il questore della provincia di Salerno, Maurizio Ficarra.